Travolte sulle strisce sulla Santa Arcangiolese mentre andavano a prendere il bus per la scuola, due quattordicenni trasportate al Bufalini in gravi condizioni, una è in rianimazione. Torna a correre il virus in regione e anche nel riminese, ma la situazione degli ospedali resta sotto controllo, l'assessore Donini spinge le vaccinazioni. Un altro anno senza gite e viaggi di istruzione per colpa del Covid, il grido d'allarme delle agenzie specializzate. L'Amarcourt Film Festival torna in presenza a Rimini, presentata alla quattrodicesima edizione al via dal 23 novembre, sempre nel nome di Federico Fellini. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TV. Diamo uno sguardo purtroppo a questa notizia di cronaca, un grave incidente avvenuto intorno alle 7 di questa mattina a Santo Marino di Poggio Toriana, sulla strada provinciale Santa Arcangiolese. Due ragazzine di 14 anni sono state travolte da una Fiat Punto guidata da una quarantenne cinese mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell'autobus per andare a scuola. Le 14 anni sono state purtroppo centrate in pieno dal veicolo che procedeva a velocità sostenuta dopo aver superato una rotatoria. Una delle due ragazzine dopo l'impatto è caduta al lato della carreggiata. L'amica è stata invece sbalzata sul cofano e trascinata per alcuni metri, prima di finire anche lei sull'asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medicalizzata, oltre all'elisoccorso che ha poi trasportato le giovani all'ospedale Bufalini di Cesena. A preoccupare sono in particolare le condizioni della ragazzina travolta in pieno nell'urto con l'auto. È stata intubata e si trova in rianimazione. È invece subito fratture multiple ma non corre pericolo di vita l'altra 14enne che è ricoverata in pediatria. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Verucchio con l'ausilio della polizia locale per la gestione del traffico. Al vaglio la posizione della donna che era alla guida dell'appunto. Torniamo a parlare di coronavirus. Purtroppo anche i numeri di oggi infatti confermano il trend di crescita dei contagi sia in Emilia Romagna che in provincia di Rimini, dove negli ultimi due giorni si è registrata un'accelerazione notevole. Vediamo. Non arrivano purtroppo buone notizie dal bollettino Covid con i contagi che hanno ripreso a correre anche in provincia di Rimini. Per il secondo giorno consecutivo si tocca infatti la tripla cifra. Sono 133 con 69 sintomatici. Solo Bologna fa peggio in regione con 145 casi. La Romagna resta complessivamente molto esposta al virus, con i 107 casi di Forlì e i 99 di Ravenna. Purtroppo anche due dei 9 decessi comunicati oggi in regione sono nel riminese. Due uomini di 78 e 80 anni, entrambi di Rimini. 33 invece le guarigioni. Salgono a due i ricoveri in terapia intensiva all'infermi. Ieri ce n'era uno solo. Trendi e repentino aumento anche in Emilia Romagna, dove i nuovi casi oggi sono 929, su un totale di 35.121 tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi che arriva al 2,6%. L'età media è di poco meno di 42 anni. Le guarigioni sono invece 343. I casi attivi superano quota 12.000. Di questi, le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o assenti, sono il 95,8%. Restano stabili i numeri degli ospedali. 4 i pazienti in più nelle intensive, 45 complessivi, mentre sono 3 in meno in reparto, 456 in tutto. 9, come detto, i decessi comunicati in tutta la regione. Per quanto riguarda i vaccini, invece, risulta aver completato il ciclo l'88% della popolazione vaccinabile. Le terze dosi sono 325.583. E come abbiamo sentito, il contagio non arresta la sua crescita. La regione cerca di accelerare proprio sulle terze dosi, che da lunedì saranno prenotabili da tutti i cittadini con più di 40 anni. Nonostante l'aumento dei casi, resta però sotto controllo la situazione negli ospedali. La Romagna e Rimini in particolare restano maglia nera per le vaccinazioni. Solo l'85,5% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo, a fronte dell'87,4% di media regionale. Cresce progressivamente la curva del contagio, con un aumento dell'RT a 1,23% e dell'incidenza a 83,7% ogni 100.000 abitanti, con un picco di 193 nella fascia 6-10 anni e 165 in quella 11-13. Siamo in piena quarta ondata, per cui l'incidenza sta sicuramente aumentando, come sta aumentando anche l'RT. ma la situazione ospedaliera è ancora sotto controllo. Siamo sotto il 5% per quello che riguarda i reparti di terapia intensiva, ricordo che il livello di guardia è al 10% e siamo poco sopra il 5% per quello che riguarda i reparti Covid, ricordo che il livello di guardia è al 15%. Questo è l'effetto dei vaccini, perché anche se guardiamo i casi, oggi noi diamo quasi mille casi in Emilia-Romagna, l'anno scorso, nell'ondata che ci fu a novembre, i casi erano più del doppio e si parlava di decine di decessi al giorno. La regione cerca di accelerare sulla terza dose, hanno ricevuto il booster già il 92% degli immunodepressi, la percentuale più alta in Italia, e da lunedì partono le prenotazioni per i cittadini tra i 40 e i 59 anni, che abbiano completato da sei mesi il ciclo vaccinale. Sono circa 2 milioni e 200 mila persone che da qui a maggio avranno la possibilità di farsi somministrare la terza dose, potranno farlo dai loro medici di medicina generale, negli hub che ci saranno almeno uno per provincia e dalle farmacie dei servizi, perché più di 200 farmacie vaccineranno in Emilia-Romagna, e poi ovviamente non staremo con le mani in mano, anche con mezzi mobili per raggiungere magari le aree più interne dell'Emilia-Romagna. Ricordo che noi stiamo vaccinando tuttora quelle persone che hanno fatto Johnson & Johnson, che è una dose unica, dopo sei mesi dalla somministrazione della dose unica. Per la terza dose la Regione ha sollecitato il Governo perché si è resa possibile anche al personale scolastico, che non abbia ancora compiuto 40 anni, vista anche la crescita dei casi tra i più piccoli. Federfarma ha inoltre recepito l'appello dell'Emilia-Romagna perché nelle farmacie siano lasciati slot di prenotazione tamponi per i bambini sotto i 12 anni. L'assessore Donini è stato anche sollecitato sull'ipotesi avanzata da diversi Presidenti di Regione di prevedere restrizioni solo per i non vaccinati. Oggi il sottosegretario Sileri ha ipotizzato in caso di zona arancione un lockdown per chi non è stato vaccinato. Sentiamo cosa ha detto. Fu il primo a chiedere che in caso di focolai si valutasse la popolazione vaccinata, nel senso che i vaccinati, se negativi, potessero continuare le lezioni in presenza. Fui accusato di ogni nefandezza ma poi alla fine si è arrivati a questa procedura anche nell'ambito della gestione dei focolai scolastici. Io penso che la vaccinazione comunque è un argine in buona parte per la diffusione dei contagi e nella quasi totalità dei casi per la malattia grave. Di conseguenza qualora la pandemia, che non è difficile immaginarlo, nei mesi novembre e febbraio, nei mesi invernali, possa avere una maggiore acutezza, io penso che si debba avere riguardo della popolazione vaccinata che è meno a rischio e bisogna proteggere di più la popolazione non vaccinata che è molto più a rischio. Il 2021-22 rischia però di essere un altro anno scolastico senza gite e viaggi di istruzione. Ad oggi sono infatti pochissime le richieste che arrivano dalle scuole italiane alle agenzie specializzate e molte di queste hanno sede proprio a Rimini. Le gite scolastiche si possono fare ma sono pochissime le scuole che stanno pensando di organizzarle. Le preoccupazioni legate al Covid superano il desiderio, pur presente, come mostra un questionario a cui hanno risposto migliaia di scuole in Italia, di offrire agli studenti questo tipo di esperienza educativa. A settembre è uscito dicendo vai si può viaggiare eccetera, però mancando le normative che spiegano come si fa, come si deve fare, quali sono gli elementi del viaggio, quali sono le normative da applicare per il Covid eccetera, la gran parte delle scuole è ancora ferma, nonostante il ministero abbia detto viaggiate. Uno, non si sa come fare col Green Pass, c'è qualche scuola che dice ma insomma noi non possiamo chiederlo, allora come facciamo ad andare in gita? Altra scuola che dicono eh beh c'è lo stato d'emergenza, fino a che c'è lo stato d'emergenza non si viaggia, che non è vero, però io capisco anche le scuole che sono in una confusione totale e quindi dicono boh possiamo partire, non possiamo partire. Alle scuole dicono ma sei proprio sicuro te, vuol dire sei l'oste che vuoi vendere vino, mi dici che è buono, ma va a capire. In Italia sono 150 le agenzie specializzate nei viaggi di istruzione, con un giro d'affari che supera il miliardo di euro tra gite e vacanze studio estive. Rimini è il centro principale degli operatori del settore, con circa un migliaio di dipendenti complessivi. A Rimini ci sono tutti i tour operator che gestiscono la stragrande maggioranza dei viaggi di istruzione italiani, tanto che nel gergo della lingua delle agenzie viaggi di tutta Italia, i tour operator che seguono le scuole si chiamano i riminesi. In una mia agenzia siamo tra i primi e i secondi a livello nazionale, qua siamo qui a Rimini. Nel 2019 in questo periodo arrivano tra 200 e 250 bandi al giorno, quindi le richieste di gita per una classe. Ad oggi ne sta arrivando una o due ogni giorno. Il comune di Rimini fa squadra con Cesena, Forlì e Ravenna per intercettare e utilizzare al meglio i fondi del PNRR. È stata presentata questa mattina al Cinema Fulgor a Romagna Next. Scopriamo di cosa si tratta. Fare della Romagna il primo laboratorio nazionale di pianificazione interprovinciale per rispondere alle sfide del piano nazionale di ripresa e resilienza. È l'obiettivo del progetto Romagna Next, che vede protagonista l'amministrazione di Rimini, capofila dell'iniziativa, insieme a quelle di Forlì, Cesena e Ravenna. Grazie alla collaborazione di diversi enti del territorio, dalle camere di commercio all'università, verrà effettuata una programmazione sul medio e lungo periodo per sviluppare progetti di area vasta in materia di salute, energia, infrastrutture, cultura, turismo, impresa e lavoro. Il piano strategico a Rimini ha significato in fondo tante opere che abbiamo visto in questi anni, dal rifacimento dei lungomari, centro storico, il risanamento idrico fognario. Bene, su questa strada vogliamo andare avanti anche con gli altri comuni della Romagna. Io credo la nostra area, la nostra area vasta, quella che già conosciamo ad esempio in campo sanitario, conta un milione di abitanti, 5.000 km2 di estensione e se lavoriamo insieme io credo che sapremo intercettare anche le importanti ingenti risorse che il PNRR e le risorse europee appunto che vengono messe a disposizione possono garantire a questo territorio un futuro di maggior competitività e sostenibilità ambientale e qualità della vita per i nostri concittadini. Uno specifico studio di fattibilità verrà inoltre condotto su un progetto pilota a particolare valenza strategica che sarà incentrato sulla combinazione tra ambiente, inteso non solo come tutela del paesaggio ma come qualità e salubrità del contesto di vita delle persone e salute, intesa in chiave di prevenzione delle malattie, organizzazione dei servizi ed educazione sanitaria della popolazione. La sfida è stata lanciata e punta a fare della Romagna un territorio ricco di eccellente, riconosciuto per il buon vivere. Incubo finito per la patinatrice artistica riminese Sara Venerucci che era processo dal 2017 con l'accusa di frode sportiva per doping. Ieri per lei è arrivata la soluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. La 31enne riminese campionessa del mondo nel 2010, 2011 e 2012 insieme al collega Danilo Decembrini era accusata di aver fatto uso nel giugno 2014 di sostanze dopanti per perdere peso e migliorare le sue prestazioni. A prescriverle i farmaci, secondo l'accusa, il medico Guido Porcellini di Pesaro, anche lui assolto. A finire a processo erano stati anche i genitori di Sara ai quali la procura aveva contestato il concorso nel medesimo reato. Anche per loro è arrivata la soluzione. Il pianeta che speriamo, questo è il tema della conferenza organizzata dal progetto culturale della Diocesi di Rimini che ha visto ieri sera in Sala Manzoni protagonista il fisico e docente universitario Luca Fiorani, autore anche del libro Happy Planet. Lo ha intervistato per noi Loris Menghi, vediamo. Questa sera abbiamo capito una cosa, dobbiamo imparare ad ascoltare la Terra. Assolutamente sì, ascoltare la Terra è importantissimo, la Terra ci manda dei segnali. Noi vediamo questi eventi meteorologici estremi, per esempio queste ondate di calore, questo scioglimento dei ghiacci, questo innalzamento del livello del mare. Sono tutte segnali che un cambiamento è in atto. A noi ascoltare la Terra è far sì di mitigare questo cambiamento. Se nulla cambia il pianeta va avanti, ma noi sapiens che fine facciamo? È proprio questo il problema. Il pianeta comunque andrà avanti perché il pianeta continuerà a ruotare attorno alla sua stella. Ma noi specie Homo sapiens, se renderemo il pianeta invivibile per noi, questo è il problema di cui dobbiamo preoccuparci. Far aumentare la temperatura del pianeta potrebbe far sì che il pianeta diventa difficile da vivere per noi. Noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare e come? Gli stili di vita sono importantissimi. Allora noi possiamo cambiare la nostra vita quotidiana, fare la raccolta differenziata, andare più a piedi, più in bicicletta che in macchina, usare i mezzi pubblici. Ma credo che sia importante anche che noi cominciamo a chiedere ai decisori politici un forte cambiamento di rotta. Un cambiamento di paradigma socio-economico che metta la persona umana al centro. L'equità con i paesi più poveri e anche il rispetto del pianeta. Torna dal 23 novembre a Rimini l'Amarcourt Film Festival, appuntamento dedicato ai cortometraggi e dedicato a Federico Fellini. Migliaia i filmati arrivati per partecipare alla 14esima edizione del concorso. Sulla strada di Fellini il tema scelto per questo 2021 che segna anche il ritorno in presenza. Tutto pronto per l'Amarcourt Film Festival che dal 23 al 28 novembre si snoderà tra 5 location nel centro di Rimini, Cinema Fulgore Tiberio, Teatro degli Atti, Museo e Cineteca. Aumentano da 8 a 10 le categorie in concorso con 150 corti finalisti tra i ben 1200 arrivati da 70 paesi. Tra conferme e novità, la notizia più bella di questa 14esima edizione è però il ritorno in presenza. L'anno scorso è stata talmente una batosta ricevere la notizia della chiusura di cinema e teatri a un mese dall'inizio del festival che quest'anno non ci credevamo ancora. Quindi questa è una notizia ovviamente che ci rende pieni di gioia ma che ci emoziona tantissimo. Tornerà il concorso fotografico paparazzo, ci saranno tre masterclass, una delle quali dedicata a piattaforme e serie tv, le mostre al museo della città, compresi i 40 migliori disegni dei bambini delle scuole e tanti omaggi importanti. Amarcort 2021 è sulla strada di Fellini. Sulla strada di Fellini perché omaggeremo tre grandi registi, Kubrick, Lynch e Anderson, che sono stati fortemente influenzati dall'opera di Federico Fellini. Avremo un imperdibile omaggio a Giulietta Masina e un omaggio a Carla Fracci nell'anno della sua scomparsa. Raddoppi è il premio Un Felliniano nel mondo. Andrà a Dermanno Cavazzoni, che firmò con Fellini, soggetto e sceneggiatura della Voce della Luna, e a Ferruccio Castronuovo, che per dieci anni collaborò col maestro, filmando i backstage di film come Casanova, La Città delle Donne, La Naveva e Ginger e Fred. Lui evidentemente si evitava molto di me. Io lo guardavo un po' con timore, perché per me era sempre il gigante, l'eroe. Fellini lo chiamavamo il faro e lui a me mi chiamava Ferrucino. Ferrucino, una volta mi ha chiamato alle 5 del mattino, Ferrucino nevica a Cinecittà. Io avevo la mia macchina da presa, giravo io pure, sono andato di corsa alla Cinecittà e ho girato queste scenografie di Fellini che si stavano coprendo di neve. E queste immagini le avevo utilizzate poi nel montaggio di quello che è il filmato su Ginger e Fred. Fellini ha fatto poi la neve finta in studio, con dei truccioli di gomma schiuma, che volavano facilmente per aria, con un po' di vento, eccetera. Però se si attaccavano sui vestiti non se ne andavano più. E noi siamo arrivati in conclusione, come sempre vi ricordo per tutti gli aggiornamenti il nostro sito newsrimini.it, mentre la piattaforma Icaro Play per rivedere questo telegiornale e tutte le produzioni del gruppo Icaro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il nostro sito.